La cosa più importante oltre al gol è stata la prestazione mia, della squadra che ha aiutato a portarci questo punto a casa che ci serviva perché dovevamo continuare ad avere fiducia nei nostri mezzi, perché siamo una squadra che sorride ed è sempre pronta a lavorare duramente per portare questi risultati a casa. No, guarda, io sono uno che non gli piace entrare gradualmente perché sono un giocatore che secondo la mia prospettiva ha bisogno di giocare, più gioca più dà la squadra e quindi mi metto a disposizione del mister, le sue scelte sono scelte e io faccio quello che mi dice e sono qui per dare il massimo per questa maglia. Teno con giocatori altrettanto forti, quindi sono preparato a questi tipi di partite e me la gioco, me la gioco, mi diverto come ho sempre fatto. Sì, sì, guarda, da quello che ho visto e fino adesso sto scontrando con questa squadra che non posso dire altro che grazie, grazie a tutti i giocatori, i mister, il direttore, il presidente che mi hanno accolto qui e è stata come subito al primo giorno, mi hanno accolto bene e sono solo che felice di dare il massimo per questa maglia.